Non sei caduta dalle scale e quello non è solo un livido, non è mai anche colpa tua e non è solo un brutto periodo, no. Tu hai paura e allora smettila di raccontarti storie, raccontaci la tua. Io Lotto è un'iniziativa dell'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli che vuole promuovere l'esistenza dei centri antiviolenza e Lotto di ogni mese lancieremo un messaggio per sensibilizzare le donne a denunciare le violenze subite. Chiamaci, non aspettare anche solo per un consiglio. 15 22. Ti aspettiamo. Grazie a tutti.